Dopo il via libera alle 9 ULS è ripresa in Consiglio regionale la discussione sulla riforma della sanità. Restano da discutere gli ultimi punti. È stata indubbiamente una corsa ostacoli prima per l'azienda Zero e poi per la partita relativa al numero di aziende sanitarie con la conferma di Bassano e del Veneto orientale. Il braccio di ferro tra maggioranza e opposizione potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni. Io mi auguro che siano tempi stretti e di tempo ne è stato perso tanto con l'impegno profondo delle opposizioni. L'auspicio è che si arrivi in fretta a provare questa riforma per il bene del Veneto e dei Veneti. Ricordo che questa riforma non va a toccare minimamente quella che è la programmazione sanitaria, va a toccare solo l'ambito amministrativo burocratico per snellirlo e non per appesantirlo. Quindi da questo snellimento, da questa riforma avremo dei risparmi. Risparmi che possono essere, anzi devono essere, riversati sul miglioramento della qualità delle cure che vengono erogate i pazienti. L'opposizione chiede una maggiore attenzione per le richieste che arrivano dai territori. In particolare realtà che all'interno di un'unica ULS di quasi un milione di abitanti è impossibile in previsione di poter gestire e quindi l'alta padovana o territori come nel Veronese che hanno sicuramente peculiarità, che le hanno dimostrate soprattutto nella qualità della sanità, vogliono rimarcare. E quindi la possibilità di avere dei criteri che permettono ai sindaci almeno di dire la loro. La maggioranza risponde portando come esempio l'Emilia Romagna governata dal PD. Anche in questo caso le ULS sono nove e la più grande, Bologna, conta un milione e mezzo di abitanti. L'Emilia con il Veneto è stata presa dal governo come benchmark regione da seguire in termini di organizzazione sanitaria. La strada virtuosa quindi è tracciata, basta seguirla.